Poi viene messo nelle trincee e viene tutto sistemato con i trattori. Le trincee che poi fanno il biogas. Avanti intri, che bel divertimento! Qui ci sono le trincee e poi il biogas. Sono quei boloni lì. Non ci sono le trincee. Non ci sono le trincee. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.